Buonasera, abbiamo dato 10 minuti, quarto d'ora accademico, ma aspettare qualcuno, ma credo che siamo tutti per questa sera. Vi do il benvenuto, siamo qui alla seconda parte della conferenza naturalistica con il naturalista etnografo Tidio Selva, la prima parte si è venuta sabato scorso, ma per le persone che non erano presenti vi faremo vedere delle slide che vi ho fatto vedere la settimana passata, in modo che potrete rilacciarvi all'argomento di questa sera, che ricordo sono piante, rocce e animali del territorio del triangolo lariano, quindi ci sarà un breve excursus di tutto illario, ma soprattutto del triangolo lariano, quindi il naturalista dopo, se avrete anche delle curiosità, potrà soffermarsi su esse, spittando poi anche quanto volete voi sapere in base ai vari punti, anche magari di vostro interesse personale, del triangolo lariano. Partirà subito la slide, il naturalista naturalmente spiegarà di volta in volta questi passaggi al termine della documentazione fotografica, ci sarà un voto e risposta, potrete soffermarvi, trattenervi anche con il naturalista che vi spiegherà il tutto. Abbiamo anche dei volumi scritti dallo stesso che potrete consultare, vedere, insomma, prendere al termine della conferenza. nasce subito la parola ad Attil, così che velocizziamo quel tutto. Grazie della partecipazione, buonasera.